Venerdì 16 marzo dalle 22.30 rivivi con noi la magia degli anni 70 e 80, i migliori anni special party. Al Fico, via Tasso 466, Napoli. In console, Irene Ferrara. Per info, 338-634-8818 o 333-2376-350. Se tanta voglia hai di divertirti, ho tanta voglia di vederti al Fico. Venerdì 16 marzo dalle 22.30. Al Fico, via Tasso 466.